Quindi di Doyle, benvenuto a questa prima giornata di convivere. Possiamo dire che partiamo veramente alla grande con un ospite d'eccellenza, il professor Roberto Esposito, tra l'altro è considerato uno dei nostri filosofi più illuminati e ci tengo a sottolineare i nostri perché è veramente un orgoglio. Tra l'altro è considerato una delle massime autorità nel suo campo dall'ampio respiro internazionale. Insegna filosofia teoretica a Pisa, alla scuola normale superiore e poi ha tenuto tantissime conferenze e lezioni nelle università più prestigiose non solo europee ma anche americane. È autore di tantissimi libri, ve ne cito qualcuno a titolo così esemplificativo, Immunitas, protezione e negazione della vita del 2002 che tra l'altro io ho letto molto volentieri per l'occasione, Comunitas, origine e destino della comunità uscito nel 2006, Le persone e le cose del 2014 e poi recentissimi, politica e negazione per una filosofia affermativa del 2018 e proprio fresco fresco di quest'anno, pensiero istituente, tre paradigmi di ontologia politica. Con il professore oggi affronteremo un argomento molto attuale, importante, parleremo infatti dell'esigenza sempre più diffusa possiamo dire di immunizzarsi, cioè di proteggersi da tutti quei rischi di varia natura a cui può essere sottoposto l'essere umano e quindi a quella necessità di porsi al riparo da ciò che minaccia e ci insidia. E poi parleremo anche insomma del legame, dell'equilibrio che c'è tra l'immunità e la comunità. La parola al professore Roberto Esposito. Grazie, grazie di queste parole generose, grazie intanto al Festival Convivere, di questo invito, grazie appunto a Ilaria, Emanuele e Margherita, mi permetto di dire i nomi propri, un saluto particolare a Gabriella che è qui davanti a me, che ringrazio di essere qui e sono, voglio dirlo, molto contento di stare in questa città, in questo splendido posto, peraltro fa molto più fresco che a Pisa, quindi ci trasferiremo qui come università. Dunque sì, questo tema dell'immunità, dell'immunizzazione e in effetti dall'inizio di questa pandemia non si parla d'altro, immunità personale, immunità di gregge, naturale, indotta, temporanea, definitiva, si fanno, come sappiamo, test di massa per sapere se si è già immunizzati dal virus, ci si chiede se il plasma di coloro che sono stati immunizzati possa essere iniettato nei malati per immunizzarli a loro volta, si aspetta di vedere in chi è guarito quanto duri l'immunità, temendo che appunto il suo effetto protettivo possa interrompersi. Ma questa richiesta immunitaria non riguarda soltanto l'ambito medico, ma anche l'ambito propriamente giuridico. Questo festival è dedicato appunto ai diritti. Imprenditori, presidi, rettori di università chiedono, come si dice, uno scudo immunitario rispetto appunto ai rischi di contagio all'interno della loro sfera di competenza, come del resto anche i politici, i governatori, i sindaci, stanno lì a misurare comprensibilmente le conseguenze politiche di un'immunizzazione mancata o tardiva. Ma c'è qualcosa di ancora più generale, il tema dell'immunità, che investe l'intera sfera sociale, minacciando un po' di trasformare la società in una grande bolla immunitaria o immunizzata. Perché cosa sono? Chiusura, confinamento, distanziamento, che solo per un paradosso possiamo definire sociale, perché il distanziamento in realtà è una forma di desocializzazione. Comunque, che cosa sono queste attenzioni, queste cure per la distanza, se non dei dispositivi appunto immunitari, che poco alla volta stanno occupando, come dire, tutto il territorio dell'esistenza individuale e collettiva. E infine la mascherina, che per fortuna noi due abbiamo potuto elevare, beh, è in fondo una metafora dell'immunità, incollata al nostro volto, esprime un'esigenza di immunità. E perfino, ne parlavamo poco fa con Ilaria, l'app scaricabile, che in realtà non ho scaricato ancora, sui nostri smartphone si chiama Immuni. Quindi, insomma, siamo dentro questa dimensione, questo lessico, questo linguaggio dell'immunità. Ma, insomma, che cosa è più esattamente, da dove nasce, dove ci sta portando, un po' questa sorta, chiamiamola così, di necessaria sindrome immunitaria, necessaria perché è necessaria, però ha un po' i tratti di una, di un'ossessione, diciamo così, che giustamente ci ha preso e che sembra un po' unificare i linguaggi del nostro tempo, quelli della medicina, quelli della società, quelli della politica. Ecco, sul piano storico dobbiamo stare attenti a non ridurre il significato del concetto di immunità a un fatto recente, a un'esperienza di oggi, no? Volta a creare dei confini protettivi rispetto al rischio. Non è sbagliato, no? Riferirci a oggi. Però, per cogliere in tutti i suoi aspetti questo tema dell'immunità, bisogna inquadrarlo in un orizzonte più ampio, più profondo, no? Rivolgere uno sguardo, come si dice, di lungo periodo. E allora da questa prospettiva che noi filosofi possiamo definire genealogica, no? Cioè cerca di rintracciare la genesi di un fenomeno, l'immunità o l'immunizzazione è un concetto, una categoria attraverso il quale, in fondo, è possibile leggere tutta la storia moderna. Perché se, naturalmente, l'esigenza di protezione della vita caratterizza tutta la storia umana, non ci sarebbe stata storia umana se non ci fosse stata, fin dall'inizio, una salvaguardia della vita. Però, o nella modernità, questo elemento, questa esigenza di immunità, diventa proprio il compito fondamentale, quasi un compito strategico che si pongono gli uomini quando, no? All'origine dell'immunità, quando vengono un po' meno le protezioni trascendenti, divine, no? A cui ci si appellava precedentemente, e allora gli uomini sentono il bisogno di costruire proprio degli apparecchi, degli apparati immunitari di tipo artificiale con cui proteggersi da che cosa? Dalle malattie, dai conflitti, dalle guerre, dalle novità. Questo è il tempo, l'inizio della modernità, delle scoperte geografiche, nuovi popoli, nuove, diciamo, esperienze che sono anche inquietanti e dunque lì comincia a delinearsi questa richiesta di immunizzazione. Oggi quello che abbiamo di fronte non è che l'ultimo passaggio di questa storia è sempre più accelerato, è come dire, è un passaggio di scala. Oggi, insomma, questo processo di immunizzazione sembra quasi diventare un po' la figura del nostro tempo, qualche cosa che caratterizza la nostra stagione. E per capire, prima dicevo che cos'è l'immunità, per capire esattamente questo fenomeno in tutto il suo rilievo storico, giuridico, sociale, io credo, almeno io, ho cercato di fare un giro ancora più ampio che passa per il linguaggio, per l'etimologia, come si dice di questa parola. Se si presta attenzione all'etimologia latina, perché immunità viene da immunitas, si coglie subito che immunitas o immunità è il contrario di un termine che condividono la stessa radice, cioè il termine comunitas. L'immunità si coglie nella sua relazione di contrasto con la comunità, perché, vedete, entrambe le due parole comunitas e immunitas derivano da una parolina ancora più piccola che è il termine munus, che in latino significava obbligo, legge, ufficio o anche dono, per altri versi. E quindi, alla fine, il munus diventava, possiamo concepirlo, quasi come una legge, un obbligo del dono, della cura reciproca nei confronti degli altri. Ma ecco allora la differenza. Se la comunità, la comunitas, si rapporta a questo dono in senso positivo, l'immunitas invece si rapporta a questo tema dell'immunus in senso negativo. Mentre i membri della comunitas, per usare questa espressione, si sentono vincolati da un obbligo di cura reciproca, chi è immune o si dichiara immune si sente esonerato, esentato, non deve prestare quest'ufficio di cura nei confronti degli altri. è libero da obblighi, per così dire. E dunque, per lo stesso motivo, è protetto dal rischio della condivisione. Perché condividere qualche cosa con gli altri, pensiamo anche all'esperienza più intensa, quella dell'amore, anche tra due persone, in fondo è una piccola minaccia all'identità individuale. Chi è immune, chi è dichiarato immune, invece, ha questo privilegio di non correre questo rischio di contagio, di contaminazione nei confronti dell'altro. E questo che dico è riconoscibile molto bene sul piano giuridico-politico. Voi sapete, l'immunità diplomatico-parlamentare è ciò che sottrae qualcuno dalla legge che invece riguarda tutti gli altri. Sul piano medico-biologico, l'immunizzazione che può essere naturale o anche indotta dal vaccino è ciò che protegge dal rischio di contrarre una malattia infettiva cui invece agli altri sono esposti. E allora sovrapponendo questi due linguaggi giuridico e medico si può concludere che se la dimensione della comunitas determina la rottura delle barriere individuali che dividono le persone al contrario l'immunità ricostruisce intorno a ciascuno di noi questi confini protettivi contro un rischio che in qualche modo minacci la sussistenza appunto dell'individuo. questo vale per gli individui ma vale anche per le società questa esigenza protettiva. Qual è il più grande apparato immunitario della modernità? Lo Stato si potrebbe dire no? Ma anche il diritto il diritto stesso cui è dedicato questo festival in particolare un sociologo del diritto noto adesso molto Niklas Luhmann sostiene che il diritto è il sottosistema immunitario della società detto in parole povere senza un codice giuridico una società sarebbe preda dei conflitti quindi il diritto protegge la società dal rischio di autodissoluzione facciamo un passo in avanti che significa dire che il diritto è un dispositivo immunitario attenzione qui tocco un tema tantino complesso beh significa che il diritto per proteggere qualcuno per inserire nel proprio orizzonte qualcuno tendi a lasciare sempre qualcuno fuori da questo confine perché noi possiamo percepire di avere un diritto dobbiamo immaginare che potremmo non averlo o che qualcuno possa non averlo pensiamo alla cittadinanza dire io ho la cittadinanza ha senso solo se può esistere qualcuno che non ce l'ha altrimenti non sarebbe un diritto sarebbe un fatto un dato di fatto e quindi il dispositivo del diritto in quanto tale la sua logica il suo linguaggio che è sempre un linguaggio formale il diritto è sempre formale significa esattamente questo che c'è una linea entro la quale si hanno dei diritti una linea che si può allargare sempre di più che si può spostare sempre più avanti ma che diciamo rende possibile che al di là di questa linea ci sia qualcuno che non gode di questi stessi diritti il diritto non è eterno è storico anche quando sia stato riconosciuto a un certo punto si potrebbe perdere pensiamo per esempio al lavoro al diritto del lavoro il diritto del lavoro fino ad alcuni anni fa garantiva dalla possibilità di essere licenziato oggi il diritto del lavoro si è ristretto quindi i diritti sono a tempo non sono eterni si danno storicamente no? altrimenti se così non fosse se il diritto appartenesse a tutti gli esseri umani in fondo coinciderebbe con la giustizia ma il diritto non è la giustizia anche se tende sempre verso la giustizia però non esiste un diritto perfettamente giusto pensiamoci c'è un diritto che hanno tutti gli esseri umani non lo so non direi neanche il diritto alla vita possono rivendicarlo tutti c'è qualcuno che purtroppo diciamo resta escluso resta fuori da questo come dire dal territorio confinato dal diritto ed è bene che il diritto abbia questa capacità autocritica sa di non essere perfetto di poter essere sempre più esteso sempre migliorato ma è importante che abbia questa consapevolezza di dover spingersi sempre sempre più avanti appunto lo dicevo nelle società moderne il diritto è come una linea avanzante che si allarga sempre di più ma che non può mai perdere questa dimensione di linea altrimenti diciamo il suo significato in qualche modo sfuggirebbe ecco questo che ho detto del diritto ci riporta al carattere sempre ambivalente un po' contraddittorio dei sistemi immunitari perché contraddittorio perché i sistemi immunitari i sistemi protettivi da un lato sono necessari senza questi sistemi per esempio un organismo umano senza il proprio sistema immunitario interno deflagrebbe e così una società non reggerebbe senza dei sistemi immunitari sono necessari all'organismo individuale ma anche all'organismo sociale il problema è che però oltre una certa soglia oltre un certo limite questa immunizzazione rischia di diventare una sorta di blocco una sorta di gabbia qualche cosa di negativo che può addirittura in qualche modo non voglio dire distruggere ma minare il fondamento della comunità della socializzazione il problema sta nel dove porre questa soglia questo limite oltre il quale non si deve andare quanto può essere spostata questa soglia chi è che la custodisce chi è il guardiano quanto appunto il dispositivo immunitario sia in senso medico sia in senso giuridico può essere sempre più accentuato c'è un punto limite ecco oggi questa linea è stata spostata molto in avanti cioè la stagione che viviamo beh il sistema immunitario è diventato quasi come dire il perno di rotazione intorno al quale ruota la nostra esistenza è diventato quasi una forma di vita naturalmente noi adesso abbiamo gli occhi a questa terribile pandemia e questo non solo ci appare necessario ma va seguito in dettaglio però se allarghiamo un po' la linea dell'orizzonte vediamo che già da tempo questa preoccupazione per l'immunità era diventata prevalente basti pensare al rilievo crescente che ha l'immunologia cioè la scienza che definisce i sistemi immunitari che ha assunto un peso sempre maggiore si pensi per esempio a quello che è successo quando si è scoperto l'AIDS e in quel caso anche abbiamo avuto un fenomeno di desocializzazione i rapporti non solo i rapporti sessuali ma in generale diciamo la società è stata organizzata secondo regole normative di distanziamento che prima non c'erano cioè sono state create in quel tempo quando erano gli anni sessanta settanta delle barriere non soltanto come dire profilattiche ma delle barriere socioculturali quello è stato un primo momento di forte espansione dell'esigenza immunitaria se si sul piano sociale se pensiamo al fenomeno dell'immigrazione che è percepito quanto meno e comunque percepito da alcuni come un rischio anche lì sorgono barriere posti di blocco linee di separazione contro ciò che minaccia o comunque sembra minacciare la nostra identità biologica culturale sociale è come se si fosse esasperata quella paura di essere toccati di cui parla questo grande scrittore filosofo Elias Canetti che dice all'origine della nostra esperienza c'è la paura di essere toccati pensateci se noi siamo che so in un autobus e veniamo sfiorati anche in avvertitamenti da qualcuno veniamo a fare un piccolo banzo indietro no? perché che cosa si teme? qualche cosa che intacchi che attraversi i confini del nostro corpo questa paura è all'origine della civiltà in fondo e anche se vogliamo nell'ambito delle tecnologie informatiche che cosa si teme? ricordate i virus dei computer qualche cosa che minaccia la privatezza della nostra corrispondenza oppure anche dei grandi computer diciamo che regolano i rapporti tra stati il timore del contagio della contaminazione quindi la questione dell'immunità dal corpo politico al corpo biologico al corpo informatico si situa oggi io dico al crocevia di tutti i percorsi tutti passano per questa questione un po' questo libro a cui Ilaria faceva prima riferimento e questo è il suo argomento tutto questo è stato amplificato dalle dinamiche di globalizzazione stranamente perché la globalizzazione fa pensare invece a una no a una rottura di confini in realtà quanto più le persone le tecniche i linguaggi si sono mischiati con la globalizzazione tanto più è nato una sorta di rigetto immunitario di timore che ha prodotto nuovi confritti confini guardate quando è caduto il grande muro simbolico di Berlino e poi sono nati tanti piccoli muri in tutta Europa non soltanto in Europa quindi da questo punto di vista il virus di cui oggi si parla sempre ma da più tempo è diventato un po' la metafora dei nostri incubi la metafora dei nostri incubi c'è stato un momento tra gli anni 50 e 60 in cui questa paura è venuta un po' meno quando quando sono stati inventati i farmaci antibiotici allora si pensò insomma ce la facciamo no contro i virus poi è venuto l'AIDS e questa diga psicologica è crollata ci siamo un'altra volta sentiti esposti a questi virus che sembrano un po' come dei diavoletti che ci tirano nel loro vuoto di senso diciamo così no e allora appunto l'esigenza immunitaria è diventata un po' la misura fondamentale della nostra vita ma come si diceva questa immunità necessaria a proteggerci se portata contro un certo limite finisce per negare quella vita stessa che vuole proteggere perché perché inevitabilmente limita sia la nostra libertà sia la comunità cioè la condivisione con gli altri quindi questa è la contraddizione su cui dobbiamo un po' concentrare l'attenzione quello che salvaguarda il corpo personale e sociale e anche quello che può bloccare lo sviluppo no si potrebbe dire che le immunizzazioni ad alte dosi sia il sacrificio della vita in tutte le sue espressioni alle ragioni della semplice sopravvivenza ragioni che sono necessarie la sopravvivenza e il presupposto per cui poi ci siano la libertà la comunità perché se non ci fosse quella però insomma la vita deve tenere anche conto di questi altri valori decisivi della nostra civiltà come la libertà la comunità c'è sempre un equilibrio tra valori bisogna trovare un punto di mediazione accettabile per così dire e del resto pensiamo alla procedura della vaccinazione di cui si parla tanto speriamo che arrivi questo vaccino dovunque arrivi ma la procedura della vaccinazione fa capire come l'immunizzazione sia una procedura negativa cioè ci si protegge dal male incorporando un piccolo frammento sostenibile di quel male no? non è che si il vaccino è proprio questo ti mette nel corpo una una puntina sostenibile di quel male in modo tale da immunizzarti del resto il vocabolo greco pharmakon significava insieme cura e veleno come se per curarci dovessimo un pochino avvelenarci no? assaggiare un pochettino la morte per poterci proteggere poi dalla morte stessa e questo meccanismo peraltro hanno studiato gli immunologi per esempio Mantovani ha scritto un libro recente il fuoco interiore che cosa spiega che nel covid 19 diciamo il sistema immunitario produce insieme dei meccanismi di difesa ma anche dei meccanismi di infiammazione anzi l'infiammazione è prodotto proprio da una risposta eccessiva del nostro sistema immunitario a quel punto cercando di bloccare le cellule infette il sistema immunitario produce l'infiammazione dei polmoni quindi vedete come l'immunità ha sempre questo doppio volto protegge ma protegge insomma creando delle insidie tant'è che contro il covid si usano degli immunosoppressori che tendono a ridurre gli effetti del sistema immunitario adesso sto dicendo delle cose molto generiche schematiche un medico le direbbe naturalmente molto meglio ma per farvi vedere come ci sia questa antinomia come diciamo noi filosofi nell'apparato immunitario e quindi appunto da qualsiasi lato guardiamo a quello che ci accade a quello che abbiamo sotto gli occhi alla nostra esperienza sociale politica biologica l'imperativo resta sempre lo stesso prevenire il contagio ovunque si anniti voglio ripeterlo si tratta di un'esigenza reale l'immunizzazione oggi per distanziamento vedete come siamo distaccati è l'unica linea di resistenza oggi di fronte alla diciamo alla malattia almeno fin quando appunto non ci sarà questo benedetto vaccino e da questo punto un po' le recriminazioni che si fanno contro questi sistemi protettivi poi appaiono insensate perché è l'unica che al momento abbiamo però non va ignorato questo punto limite che non si deve io credo sorpassare perché altrimenti si hanno dei guasti non soltanto sotto il profilo economico come sempre si dice ma anche sotto il profilo come dire antropologico perché appunto l'immunità è una protezione negativa che protegge da un male maggiore con un piccolo male minore e questo vale anche sotto il profilo sociale dove appunto la desocializzazione non può spingersi oltre un certo limite se per esempio all'università o alla scuola tutte le lezioni fossero fatte da remoto come si dice beh si sarebbe una desocializzazione insostenibile quindi bisogna trovare questo limite altrimenti la società viene unita dalla separazione nel centro della società ci sarebbe la separazione non si può arrivare a questo ci vuole un equilibrio tra comunità e immunità e qual è questo equilibrio come si trova questo equilibrio mi avvio a concludere in qualche modo questo equilibrio tra comunitas e immunitas se mi consentite di usare questi termini in latino questo equilibrio che oggi minaccia di spezzarsi a favore dell'immunità rispetto alla comunità come ristabilire questo equilibrio beh io dico in due modi da un lato cercando di disattivare i dispositivi immunitari non necessari che diventano dispositivi di esclusione no? bisognerebbe separare i dispositivi di protezione di sorveglianza di controllo dai dispositivi comuni sì di esclusione oppure di un controllo eccessivo cioè noi abbiamo pur diritto alla privatezza a una certa privatezza delle nostre vite della nostra esperienza quindi come fare a discriminare i dispositivi immunitari utili e quelli non necessari o anche nocivi non è facile perché spesso sono le stesse le misure di controllo negli aeroporti nelle stazioni le cellule fotoelettriche che stanno a ogni angolo no? dovunque passiamo siamo siamo inquadrati i dispositivi di tracciamento per sapere dove siamo dove andiamo sono insieme oggi necessari ma anche un po' insidiosi no? e quindi certo la difesa della vita è il valore primo perché è presupposto a tutti gli altri però ciò non toglie che la limitazione della libertà della società va portata entro certi confini entro certi confini qual è allora dicevo disattivazione di dispositivi non necessari e poi dall'altro lato beh creazione di spazi comuni anche in questa situazione o comunque nella società del nostro tempo voi sapete da qualche anno i filosofi i giuristi parlano di beni comuni che sono questi beni comuni i beni che non appartengono né ai privati né allo Stato ma che in qualche modo non sono di nessuno quali l'acqua l'aria le campagne le montagne i monumenti le piazze le strade l'informazione la formazione questi sono sono beni beni comuni che vanno difesi che vanno difesi da che cosa vanno difesi dalla privatizzazione del pubblico sapete che qualcuno vuole vendere il Colosseo con quel film di Totò e Peppino però al di là dello scherzo beh si parla di vendere anche spazi comuni beni comuni e poi difenderci anche dalla pubblicizzazione del privato pensate a tutte quelle trasmissioni in cui portano le persone che raccontano tutte le cose della loro vita non ne vogliamo sentire come magari in un treno che sentiamo a telefono le vicende delle persone insomma il privato va difeso il pubblico va difeso e va creato io penso appunto uno spazio di beni comuni che significa come ecco andiamo solo su questo punto gli spazi privati appartengono all'ambito della proprietà questo orologio è mio invece quello che è comune la categoria non è la proprietà ma è l'uso per esempio questo microfono una volta sanificato o come dice qualcuno santificato poi viene può essere usato da altre persone è un bene comune io lo sto usando ma non è mio non se ne approprierà neanche la persona che lo sarà dopo di me e dunque se si potesse estendere non sopprimere la proprietà questo mi pare impossibile ma accanto all'appropriazione questa categoria dell'uso dell'uso che può essere poi fatto da altri che non si appropriano della cosa che viene usato e ci sono conflitti dappertutto i conflitti per rendere comune l'acqua per esempio contro le minacce della privatizzazione ci sono stati appunto delle battaglie su questo anche nella mia città anche a Napoli battaglie vinte in questo caso battaglie contro l'appropriazione delle fonti energetiche dei beni ecologici battaglie contro i brevetti medici che rendono alcune medicine necessarie con un prezzo troppo alto sacrificando intere popolazioni che non hanno la possibilità di prenderle no? quindi insomma le cose poi si ottengono attraverso i conflitti nessuno ce le regala il conflitto è una dimensione il conflitto civile politico no? è una dimensione importante cui non possiamo sfuggire e dunque alla fine insomma noi non siamo abituati a parlare in termini di beni comuni è qualche cosa che non appartiene al nostro linguaggio che è tutto preso nella dicotomia tra pubblico e privato no? il nostro in fondo è un lessico immunitario che tende appunto a guardare le cose dal punto di vista dell'appropriazione ecco proviamo un poco a rompere ad allargare a dilatare il nostro lessico in fondo la scommessa per una ripresa di comunità pur con tutta l'immunità necessaria passa per questa possibilità per la nostra capacità di operare e prima ancora di pensare di riflettere all'interno di questo orizzonte comune ecco va bene così ringrazio tutti per avermi ascoltato e a Ilaria qua a fianco a me ringraziamolo lei perché è stato davvero un piacere ascoltarla se qualcuno del pubblico ha qualche domanda il professore risponde molto volentieri lo spaventare abbiamo già abbiamo la signora qui lo raggiungete voi grazie si dà un attimo pazienza che la raggiunge il ragazzo con il microfono solo quando si avvicina a lui poi la può ritogliere siamo esasperati nell'immunità nell'epoca odierna rispetto a quella passata e le culture però nella storia ci hanno sempre portato che anche i vari conflitti i vari gruppi hanno avuto il bisogno di sovraffare e di andare a conquistare di andare per crearsi gli spazi quindi come si può questa dicotomia equilibrare ma lo dicevo io credo attraverso la nostra capacità di distinzione di discernimento ci sono evidentemente delle raccomandazioni che ci vengono continuamente fatte che sono utili legittime e necessarie c'è però diciamo un confine che non va abbarcato io ho fatto prima l'esempio della scuola e dell'università certo c'è un margine di rischio adesso nella scuola c'è un margine di rischio nel fare esami o lezioni in presenza io vengo dalla scuola normale di Pisa dove abbiamo cercato questo equilibrio lo dico per esemplificare abbiamo quest'anno abolito gli esami iscritti che prevedevano mille persone mille ragazzi in un'unica aula perché il rischio era troppo elevato però facciamo gli esami orali cinque professori e uno studente in presenza abbiamo voluto dare questo segnale in fondo cominciando il 24 agosto siamo stati diciamo la prima manifestazione di ripresa dell'attività scolastico universitaria in Italia adesso apre la scuola anche lì qual è il confine il confine è cercare di procurarsi tutte le protezioni possibili sapendo che un minimo di rischio è inevitabile d'altra parte nella stessa vita si può mai evitare ogni rischio noi siamo persone finite e quindi dobbiamo sapere come si dice anche no sempre convivere con il rischio anche in una maniera equilibrata e ragionevole quindi questo secondo me è il punto di confine delicato ma cui dobbiamo in qualche modo guardare non so se se li ho risposto in qualche modo ci sono altre domande tra il pubblico professore ve ne faccio una io mi riallaccio un pochino alla parte iniziale essenzialmente con diciamo il periodo che stiamo vivendo adesso e quindi dettato dal covid 19 ma anche le misure che stiamo cercando di adottare per limitare la sua propagazione in quale misura secondo lei incideranno sui comportamenti sociali nel lungo periodo diciamo il nostro comportamento è già particolarmente segnato direi anche in accezione negativa da un uso eccessivo di cellulari di app appunto come andrà ad influire sul nostro comportamento sociale ma secondo me avrà una grossa influenza un'influenza che su alcuni punti non si tornerà più indietro per esempio sappiamo che gli strumenti tecnologici hanno avuto un forte salto in questa fase e per esempio sul lavoro ho due figli tutti e due adesso lavorano in smart working come si dice su questo punto non si tornerà mai a come era prima certo progressivamente si allenterà questa barriera protettiva per esempio ecco il lavoro di formazione non riguarda soltanto la scuola all'università ma anche in un'azienda chi viene assunto deve venire anche formato e questa formazione è difficile farla via internet quindi ci sarà un sistema intermedio pensiamo anche per esempio anche Amazon che si è molto espanso difficilmente si tornerà indietro però insieme lo dicevo prima creare comunità spazi comuni possono nascere delle diciamo delle iniziative collettive librarie si può immaginare diciamo anche diciamo nelle nostre città delle attività nuove che nascano tenendo conto dei rischi tenendo conto di quello che c'è stato ma le crisi come dire determinano anche una capacità creativa inventiva a volte ci inventeremo qualche cosa io non ho né un atteggiamento tecnofobo no come quelli di la tecnica è una macchina infernale che determinerà conseguenze catastrofiche come alcuni miei amici e colleghi filosofi neanche un atteggiamento filotecnico io un po' come appunto il mio amico carissimo che adesso non c'è più Remo Bodei che ha scritto su questo un bellissimo libro uscito da poco Dominio e sottomissione cerco anche io una via intermedia e ragionevole la tecnica è uno strumento un grande strumento il cui esito positivo o negativo dipende da come si usa io non credo che noi saremo completamente dominati dalla macchina come qualcuno sostiene troveremo un punto di equilibrio tra noi e le macchine si parla tanto di robot per esempio il discorso potrebbe essere esteso infinitamente sotto il profilo più generale diciamo per esempio economico-politico le conseguenze beh la pandemia ha avuto secondo me un effetto positivo di dare rilievo alla politica sull'economia fino a qualche anno fa agli anni della crisi economica si sarebbe mai immaginato che l'Europa eliminasse i vincoli che distribuisse dei denari e beh quella è stata una scelta politica poi vedremo come saranno usati eccetera eccetera però diciamo questo dominio stretto dell'economia in cui si parlava solo di debito sovrano fino a due anni fa e beh è stato sorpassato da un'esigenza politica che poi questa esigenza politica vada in una direzione giusta determini nuove uguaglianze questo è tutto da vedere però probabilmente questa vicenda come è sempre successo nelle grandi crisi ha dato una maggiore forza alla politica rispetto ai vincoli economici cosa accadrà in futuro non abbiamo la palla di vetro ma insomma alcune cose positive dureranno e alcune cose negative anche sta poi a noi non esiste come dire un destino prefissato dipende e dipende anche da noi le faccio un'ultima domanda abbiamo parlato di diversi tipi di immunità a partire da quella politica diplomatica l'immunità dalle stesse malattie ma anche dai virus informatici quindi sono realtà totalmente diverse tra di loro ma qual è il filo conduttore che le lega la radice comune se possiamo usare questo termine beh è una protezione che è anche un po' un privilegio perché ripeto nell'ambito politico un parlamentare un capo di stato un ambasciatore che ha l'immunità sta in una condizione oggettiva di privilegio rispetto a chi non ce l'ha tant'è che spesso si è scatenata questa disputa concedere o no l'immunità ai parlamentari anche in ambito medico si dice per esempio quando avremo il vaccino alcune fasce sociali i più anziani oppure gli operatori medici potranno averlo subito anche in quel caso è una protezione che determina anche una condizione di privilegio naturalmente in questo caso bisogna cercare di rendere questo privilegio una condizione comune cioè di modularlo secondo linee di uguaglianza e non secondo linee di disuguaglianza diciamo nella fattispecie l'immunità politica non potranno averla tutti evidentemente l'immunità medica speriamo di sì speriamo che insomma questo vaccino venga intanto che non costi nulla che venga dato gratuitamente e secondo che venga dato a tutti che esistano scorte per poterlo dare a tutti e nei nostri paesi che sono comunque essi stessi privilegiati e nei paesi più svantaggiati diciamo che ne hanno forse un bisogno ancora ancora maggiore insomma una parola una parola d'ordine è un termine sbagliato una parola che ci può accomunare è quella di cercare di coniugare immunità e uguaglianza anziché immunità e disuguaglianza grazie grazie e poi grazie a lei grazie a tutti